ti opporranno, ti diranno no, non è vero eccetera eccetera, invece no, bisogna specificare, per il momento non è così, il rischio come con immuni, anche per immuni, anche con immuni il problema era lo stesso, effettivamente non veniva registrato niente. Se ha approvato loro devono risarcire e questo non lo vogliono, quindi guardiamo caso, è approvato, non ce l'abbiamo, ok aspetta, poi vi dico l'altra cosa, che non metto i piedi su quella terra, grazie, state forse. Compente della fine e della difesa dei nostri bambini, perché l'ora obiettivo è i bambini, il proprio pensiero attivo e critico e quindi mi chiedo, ma per quale motivo i unici, forse al mondo, nel nostro paese, i nostri governanti ad autorizzare questa massiccia sperimentazione sui minori? Si trasmettono gli aggiornamenti in allegato, in Inghilterra, in Germania, in Francia, magari cittadini sono vaccinati, quanti di voi non sono vaccinati, ok, allora il numero di fare il professore è un po' di forza, ok, andiamo avanti, il vaccino sta, mi voglio lasciare, come al solito, con il passo della Bibbia, questo è l'Apocalisse 13, che parla del Marco, siamo proprio in questo periodo, vedi salire dalla terra un'altra bestia, che però parlava di un drago, non a caso.